Ciao a tutti, oggi siamo in questo piccolo vlog in cui siamo cominciati kebab e ora parlo in inglese e dopo parlo in italiano come sempre in inglese poi in italiano per gli altri questo è un piccolo video in cui voglio chiederti quali serie preferite per le ultime serie come abbiamo fatto tre serie il musgo ritorno, il musgo ritorno e il musgo encounter questo è il sequel del musgo effect 4 le serie quindi mettete nei commenti quale è la migliore serie quale preferite quale credi sia la migliore serie che abbiamo fatto in questo ultimo giorno in questo mese non l'ho incontrato ok per gli italiani abbiamo fatto tre serie sapete bene la serie il musgo il musgo il musgo il musgo il musgo il musgo scrivete nei commenti quale pensate sia la serie migliore così capiamo un po' anche come muoverci quindi per questo è tutto for this is all see you next bye 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 e adesso non è pieno di mangiare ciao ciao